L'Aquila non va oltre lo 0-0 interno al cospetto di un Roma City fisico e intraprendente e sono proprio gli ospiti che al dodicesimo aprono le danze con la conclusione dal limite di sparacello Michelin blocca. L'Aquila replica al diciannovesimo palla dentro di Sarrizzo per Galesio che, marcato, è anticipato dall'uscita di Di Chiara. Parti invertite al ventunesimo pallone tagliato di Galesio a cercare Sarrizzo, ma il diciannovesimo di casa non ci arriva e l'occasione sfuma. Poco dopo, su un pallone giocato lungo dal Roma City, Cassese anticipa di Renzo e agevola la presa di Michelin. Il duello tra i due si ripete al venticinquesimo con Cassese che si immola sul tiro da buona posizione del dieci ospite deviandolo in angolo. Sul finire di frazione, nitida palla gol per l'Aquila con la sponda di Galesio che agevola il diagonale di Wally dal cuore dell'area. Il tentativo del quattro di casa però scheggia il palo alla destra di Di Chiara. Ripresa al terzo, ci prova Banegas dal limite, palla sul fondo. Il Roma City risponde al sesto e va vicinissimo al vantaggio, sua azione d'angolo inzuccata di Ferrante e miracolo di Michelin che tiene il risultato sullo 0-0. Ospiti manovrieri e al quindicesimo fanno correre brividi sulle schiene dei tifosi di casa con un'azione avvolgente che al suo culmine manca il bersaglio grosso per questione di centimetri. Roma City in proiezione offensiva anche alla mezz'ora con la girata di Sparacello che però trova attento Michelin che disinnesca. L'ultimo spunto di cronaca di Marca Aquilana arriva nei minuti di recupero. Angiulli da calcio d'angolo, il pallone viene messo fuori. Padroni di casa che rimangono in possesso palla e tentano un nuovo traversone da sinistra ma né Galesio né Banegas riescono a correggere in porta. La partita finisce così senza reti con il Roma City che porta via un buon punto mentre i tifosi dell'Aquila dopo il triplice fischio con la vittoria interna che manca dalla prima uscita stagionale chiedono a gran voce un cambio di passo.